le avventure di pinocchio di carlo colloti letto da libri in pillole capitolo 17 pinocchio mangia lo zucchero ma non vuol purgarsi però quando vede i becchini che vengono a portarlo via allora si purga poi dice una bugia e per gastigo gli cresce il naso appena i tre medici furono usciti di camera la fata si accostò a pinocchio e dopo averlo toccato sulla fronte si accorse che era travagliato da un febbrone da non si dire allora sciolse una certa polverina bianca in un mezzo bicchier d'acqua e porgendolo al burattino gli disse amorosamente bevila e in pochi giorni sarai guarito pinocchio guardò il bicchiere storse un po la bocca e poi dimandò con voce di piagnisteo è dolce o amara è amara ma ti farà bene se amara non la voglio dareta a me bevila a me l'amaro non mi piace bevila e quando l'avrai bevuta ti darò una pallina di zucchero per rifarti la bocca dov'è la pallina di zucchero eccola qui disse la fata tirandola fuori da una zuccheriera d'oro prima voglio la pallina di zucchero e poi beverò quella acquaccia amara me lo prometti sì la fata gli dette la pallina e pinocchio dopo averla sgranocchiata e ingoiata in un attimo disse leccandosi i labbri bella cosa se anche lo zucchero fosse una medicina mi purgherai tutti i giorni ora mantieni la promessa e bevi queste poche gocciole d'acqua che ti renderanno la salute pinocchio prese di malavoglia il bicchiere in mano e vi ficcò dentro la punta del naso poi se l'accostò alla bocca poi tornò a ficcarci la punta del naso finalmente disse è troppo amara troppo amara io non la posso bere come fai a dirlo se non l'hai nemmeno assaggiata me lo figuro l'ho sentita all'odore voglio prima un'altra pallina di zucchero e poi la beverò allora la fata con tutta la pazienza di una buona mamma gli pose in bocca un altro po di zucchero e dopo gli presentò da capo il bicchiere così non lo posso bere disse il burattino facendo mille smorfie perché perché mi dannoia quel guanciale che ho laggiù sui piedi la fata gli levò il guanciale è inutile nemmeno così la posso bere che cos'altro ti dannoia mi dannoia all'uscio di camera che è mezzo aperto la fata andò e chiuse l'uscio di camera insomma gridò pinocchio dando in uno scoppio di pianto questa guaccia amara non la voglio bere no no e no ragazzo mio te ne pentirai non me ne importa la tua malattia è grave non me ne importa la febbre ti porterà in poche ore all'altro mondo non me ne importa non hai paura della morte punto paura piuttosto morire che bevere per la medicina cattiva a questo punto la porta della camera si spalancò ed entrarono dentro quattro conigli neri come l'inchiostro che portavano sulle spalle una piccola vara da morto che cosa volete da me gridò pinocchio rizzandosi tutto impaurito a sedere sul letto siamo venuti a prenderti rispose il coniglio più grosso a prendermi ma io non sono ancora morto ancora no ma ti restano pochi momenti di vita avendo tu ricusato di bevere la medicina che ti avrebbe guarito dalla febbre oh fatta mia fatta mia cominciò allora a strillare il burattino datemi subito quel bicchiere spicciatevi per carità perché io non voglio morire non voglio morire e preso il bicchiere con tutte due le mani lo votò in un fiato pazienza dissero i conigli per questa volta abbiamo fatto il viaggio a ufo e tiratosi di nuovo la piccola bara sulle spalle uscirono di camera bofonchiando e mormorando fra i denti fatto sta che di lì a pochi minuti pinocchio salto giù dal letto belle guarito perché bisogna sapere che i burattini di legno hanno il privilegio di ammalarsi di rado e di guarire prestissimo e la fata vedendolo correre e ruzzare per la camera vispo e allegro come un gallettino di primo canto gli disse dunque la mia medicina t'ha fatto bene davvero altro che bene mi hai rimessa al mondo e allora come mai ti sei fatto tanto pregare a beverla egli è che noi ragazzi siamo tutti così abbiamo più paura delle medicine e del male vergogna i ragazzi dovrebbero sapere che un buon medicamento preso a tempo può salvarli da una grave malattia e forse anche dalla morte oh ma un'altra volta non mi farò tanto pregare mi rammenterò di quei conigli neri con la bara sulle spalle e allora piglierò subito il bicchiere in mano e giù ora vieni un po' qui da me e raccontami come andò che ti trovasti tra le mani degli assassini gli andò che il burattinaio mangia fuoco mi dette cinque monete d'oro e mi disse to portale al tubabbo e io invece per la strada trovai una volpe un gatto due persone molto per bene che mi dissero vuoi che codeste monete diventino mille e duemila vieni con noi ti condurremo al campo dei miracoli e io dissi andiamo e loro dissero fermiamoci qui all'osteria del gambero rosso e dopo la mezzanotte ripartiremo e io quando mi svegliai non c'erano più perché erano partiti allora io cominciai a camminare di notte che era un buio che pareva impossibile per cui trovai per la strada due assassini dentro due sacchi neri da carbone che che mi dissero metti fuori i quattrini e io dissi non ce l'ho perché le monete d'oro me le erano nascoste in bocca e uno degli assassini si provò a mettermi le mani in bocca e io con un morso gli staccai la mano e poi la sputai ma invece di una mano e sputai uno zampetto di gatto e l'assassini a corrermi dietro e io corri che ti corri corri che ti corri finché mi raggiunsero mi legarono per il collo a un albero di questo bosco e dire domani torneremo qui e allora sarai morto e con la bocca aperta e così ti porteremo via le monete d'oro che hai nascoste sotto la lingua e ora le quattro monete dove le hai messe gli domandò la fata le ho perdute rispose pinocchio ma disse una bugia perché invece le aveva in tasca appena detta la bugia il suo naso che già era lungo gli crebbe subito due dita di più e dove le hai perdute nel bosco qui vicino a questa seconda bugia il naso seguitò a crescere se le hai perdute nel bosco vicino disse la fata le cercheremo e le ritroveremo perché tutto quello che si perde nel vicino bosco si ritrova sempre ah ora che mi rammento bene replicò il burattino imbrogliandosi le quattro monete non le ho perdute ma senza vedermene le ho inghiottite mentre bevevo la vostra medicina a questa terza bugia il naso gli si allungò in modo così straordinario che il povero pinocchio non poteva più girarsi da nessuna parte se si voltava di qui batteva il naso nel letto nei vetri della finestra se si voltava di là lo batteva nelle pareti o nella porta di camera se alzava un po di più il capo correva il rischio di ficcarlo in un occhio alla fata e la fata lo guardava e rideva perché ridete gli domandò il burattino tutto confuso impensierito di quel suo naso che cresceva a occhiate rido della bugia che hai detto come mai sapete che ho detto una bugia le bugie ragazzo mio si riconoscono subito perché ve ne sono di due specie vi sono le bugie che hanno le gambe corte e le bugie che hanno il naso lungo la tua per l'appunto è di quelle che hanno il naso lungo pinocchio non sapendo più dove nascondersi per la vergogna si provò a fuggire di camera ma non gli riuscì il suo naso era cresciuto tanto che non passava più dalla porta l'appunto è che non passava più da l'appunto è che non passava più da l'appunto è che non passava più